Questa mattina ho approvato un tante documento da parte della Giunta sul tema della scuola e dell'università. Qual è il significato? Il significato è che noi non ci rassegniamo a considerare chiusa la partita della scuola e dell'università, soprattutto della scuola, col voto del Senato. Perché il Governo ha deciso anche su alcune cose su cui non poteva decidere. Non poteva decidere perché il titolo quinto della Costituzione dice che sono le scuole a dover organizzare il loro lavoro nel modo più appropriato, dice che le regioni, i comuni, le province hanno ruoli importanti nell'assegnare gli organici alle scuole, nella gestione di tutti gli aspetti organizzativi della scuola sul territorio e tutti questi aspetti nel decreto non sono stati assolutamente considerati. Il decreto impone una sua norma, un suo modello a tutte le scuole italiane, indipendentemente dal contesto territoriale, dai problemi sociali, dai contesti in cui queste scuole operano. Faccio solo un esempio. Com'è pensabile col maestro unico affrontare il problema di lavorare in scuole dove il 50% dei bambini provengono da paesi diversi dal nostro? Com'è possibile pensare di riprodurre una modalità didattica di decenni fa quando così grandi sono stati i cambiamenti nel tessuto sociale ed economico del nostro paese? E poi c'è un altro problema. Se vogliamo mantenere la qualità della nostra scuola e la qualità delle scuole genovesi, soprattutto delle scuole di base, è molto alta, il comune dovrà fare investimenti che è impossibile farlo con l'attuale situazione delle bilanze comunali. Insomma qua si taglia insieme i fondi alle scuole e quindi si rende difficilissimo per le scuole fare il tempo pieno, fare il tempo prolungato, contemporaneamente si tagliano i bilanci degli enti locali, beh c'è un impasse di cui rischieranno di soffrire profondamente non solo le maestre, ma soprattutto i bambini, i ragazzi dei territori, soprattutto dei territori socialmente, in cui sarebbe socialmente più necessario un intervento serio. Questo documento che sottolinea queste cose noi lo consegneremo a Lanci, a Luppi e lo proporremo alla conferenza Stato-Regioni. Cioè noi vogliamo che si riapra a quel livello un ragionamento a partire dalla legge sull'autonomia scolastica che nessuno ha abrogato e a partire dalla Costituzione che viva Dio non è allo Stato abrogabile. Su quella base chiediamo che si riapra un confronto, che si riapra senza pregiudiziali ideologici, che si riapra con chiarezza e trasparenza. Insomma noi vogliamo cercare di recuperare un principio fondamentale, che sulla scuola non si può decidere a colpi di maggioranza e tantomeno a colpi di fiducia. Che la scuola è una cosa che riguarda tutti gli italiani, dovrebbe essere considerata come il più costituzionale di tutti i temi, su cui si ricerca costantemente maggioranze più ampie. In Parlamento, questo non è stato possibile, noi offriamo una strada al Governo, attraverso il confronto con gli enti locali, con le regioni, eccetera, per riaprire un discorso che è impossibile considerare chiuso. Ma insomma, pur nei tempi delle contrapposizioni più feroci degli Stati Uniti d'America, il Presidente Bush, quando varò la sua legge di riforma della scuola, la cambiò profondamente, perché si convinse che nessuna riforma della scuola era possibile se non c'era anche il coinvolgimento dell'opposizione. E infatti la riforma scolastica americana, quella intitolata che nessun ragazzo resti indietro, fu approvata all'unanimità dal Senato e dal Congresso degli Stati Uniti. Ecco, il Parlamento non ha fatto questo, noi, come dire, diamo una seconda chance. Recuperiamo attraverso il confronto con il sistema degli enti locali quella unità del Paese, anche a livello istituzionale, che fino a non è stata rispettata. La Germini si è sottratta, fino adesso, completamente anche al confronto con la conferenza Stato-Regioni, rispedendo al mittente le critiche. Ripartiamo da lì. Questa è la proposta che oggi Genova fa alle sue scuole, ai cittadini genovesi, ma che fa la Nazione.